andava bene il comunicato che ho fatto guido molto bene secondo me anche perché io ripeto faccio soltanto l'avvocato e quindi certamente questa vicenda mi ha abbastanza preso e appassionato però ho capito anche la tua sofferenza in prima persona di tutto quello che è avvenuto Allora fermati un attimo perché faccio la presentazione altrimenti le persone non sanno di che cosa sto parlando Allora oggi è arrivata la notizia dell'archiviazione del caso cioè della denuncia che Walter De Logo aveva fatto a me ad Andrea Muccioli e Giacomo Muccioli per una vicenda che riguardava San Patrignano e per quello che noi avevamo detto D'altra parte io sono in collegamento con l'avvocato Guido Magnisi che è un avvocato fantastico tant'è vero che è anche l'avvocato di Vasco Rossi, dico bene Guido? Sì, dici bene Allora Guido, dunque questa è la seconda causa che vinciamo, cioè nel senso che mi fai vincere l'altra era con Burioni Beh sì è vero, ma tra l'altro la cosa buffa, questo lo voglio dire ai tuoi fans io non sono d'accordo su tante cose di Red Ronny, Gabriele Alssaloni ma nello stesso tempo però mi piace difenderlo nelle cose in cui secondo me lui crede e ha ragione che non è detto che io condivido le sue ragioni, ecco voglio dire il mestiere dell'avvocato è questo cioè è volteriana la cosa, cioè io voglio la libertà delle espressioni del mio cliente e difenderlo non mi chiedo se sono coincidenti con le mie oppure no quindi Red è un amico di sempre, in molte cose dice cose giuste, in molte altre no e lui lo sa che io non le condivido, però francamente per la sua libertà io combatterò quindi è molto volteriano questo Sì, molto volteriano che si rivolge anche a quello che dice Vasco, cioè nel senso che siamo amici però hai capito, adesso io gli spiego il disco ma non so se lui lo capisce visto che Vasco è tuo cliente, come sono cliente ti voglio dire una cosa, siete però clienti, amici allora questo fa sì che non sono d'accordo al mille per mille né con l'uno né con l'altro anche perché vi conosco da ormai 40-50 anni e francamente vi voglio bene spero che voi me ne vogliate per questo tempo è proprio così, sono convinto che non tutto combaci nelle idee però francamente per la vostra libertà di cantare, suonare o parlare io combatterò Ok, allora tu oggi mi hai convinto a fare un comunicato cioè mi hai detto fai un comunicato, io ho fatto un comunicato e tu hai detto che l'hai trovato, che poi riporto nella descrizione del video e tu hai detto che all'inizio, quando appena mi sono collegato che ti piaceva il fatto che io mi impegnavo in una cosa in cui credevo Ma vedi, a mio parere la vicenda di San Patignano la puoi vedere in mille modi però io ti do, me ne sono occupato più volte nella mia vita però credo che sia in ogni caso un patrimonio che è stato spesso bistrattato cioè tutta la vicenda, Muccioli, fuori da ogni orpello leggendario fuori di maldicenze, fuori di malevolenze è qualcosa che è stato importante e tu giustamente alludi ai parenti, alle famiglie, ai genitori dei toscodipendenti che bene o male hanno partecipato a una sorta di rinascita dei loro figli anche ai genitori molto importanti, questo è positivo poi è chiaro che se tu mi chiedi tutto di Muccioli andava bene io non riesco a rispondere a questa domanda perché io non sono un ideologo, faccio solo l'avvocato però io ho visto sempre il tuo entusiasmo e soprattutto ho visto sempre la tua sofferenza nei momenti negativi che ti fa onore mi fermo qui Walter De Logu, peraltro, lui era stato condannato aveva patteggiato una condanna per il ricatto che aveva fatto Muccioli, giusto? Sì, lui aveva patteggiato e tra l'altro io ero convinto che la storia finisse lì cosa succede? che lui ha patteggiato questa condanna passano gli anni io non so quanto abbia contribuito il filmato di Netflix a esaltarne un ruolo secondo me abbastanza immeritato che lui si è assunto vero è che in ogni caso ci si è trovato in una storia ben strana per cui risultavano alla fine indagati persone che fornivano prove aderenti a quella sentenza cioè che intimidazioni c'erano state che minacce c'erano state e quindi francamente mi ha stupito molto diceva questa vicenda processuale per fortuna Rimini ha preso giustizia in tempi molto solleciti prima con la richiesta di archiviazione e oggi con l'archiviazione Sì fra l'altro c'è da dire che io ho fatto notare a quello che ha prodotto la serie e lui non ci credeva perché ho minuturato proprio col cronometro Walter De Logo che poi il padre di Andrea De Logo quella che va in televisione aveva il doppio del minutaggio dello spazio nella serie del figlio Andrea Muccioli che per 17 anni ha portato avanti San Patrignano dopo la scomparsa di Vincenzo Muccioli quindi questa diseguaglianza nel trattamento ha fatto sì che lui è diventato e notare altra coincidenza è uscito un libro del De Logo in contemporanea con l'uscita della serie vuol dire che tutto era preparato ad arte ma al di là di questo sono stato prosciolto sono stato assolto il fatto non consiste idem Andrea e Giacomo Muccioli i figli di Vincenzo Muccioli per questa accusa per questo processo che ho trovato anche molto anacronistico ma tu mi confermi che era abbastanza anacronistico quel processo era anacronistico anche perché io credo che sull'esperienza di San Patrignano non parlo dell'esperienza attuale che è ancora viva ma sull'esperienza passata di San Patrignano vada finalmente mosso un velo di ricordo che chiuda tutti i pregiudizi che c'erano io non voglio entrare in un'analisi sui pregiudizi dell'epoca e sui giudizi quindi non voglio entrare in un'analisi di San Patrignano come fenomeno in sé certo ritengo che i risultati ci sono stati in ogni caso era un'epoca dove sul problema delle tossiche dipendenze si errava nel buio cioè voglio dire chiunque ha sperimentato quel mondo negli anni 80-90 andava a esplorare un mondo assolutamente ancora inesplicabile e difficile quindi onore al merito di chi qualcosa ha fatto questa è la mia opinione molto semplice ma molto semplice bene questo è due processi che ho avuto su due dove abbiamo vinto l'altra era con Burioni fra che Burioni mi aveva accusato ma agli inizi quando era ancora sconosciuto io avevo ricevuto una mail dove mi diceva che lui però aveva conflitti di interesse e io avevo pubblicato questa mail e lui mi aveva mi aveva fatto un processo e credo siamo stati gli unici a vincere contro Burioni mi sorride a costare due cose che ti riguardano perché se no diventa o Redroni un eroe o un ottimo avvocato allora diciamo che Redroni non è un eroe e io sono un avvocato che l'ha difeso con entusiasmo ecco però quello è il punto il punto per esempio di Burioni c'è un Burioni scienziato che io non discuto e un Burioni come dire soggetto televisivo mediatico iperesposto che tiene la rubrica televisiva costante ormai da anni che è un soggetto che si deve prestare a delle critiche infatti qui c'è un mondo molto strano dove la scienza la cultura in questo momento qui parlo però non ideologizzando più di tanto la cosa vengono poste in discussione ma non in quanto tale ma in quanto fenomeni di spettacolo non sto sentendo l'idea è evidente che se dalla scienza dalla cultura dalla filosofia tu fai cabaret e beh dopo ti esponi alle critiche e poi piacere e poi non piacere questo per me è un problema enorme che ultimamente sto affrontando cioè come oggi la cultura primo non sia legittimata in quanto tale ma diventa spettacolo e questo è orrido e dall'altra come la cultura diventa il fenomeno ideologico di parte se da una parte hai ragione se dall'altra parte hai tolto e la cultura purtroppo non è così almeno per me non è così significa conoscerle cose sapere le cose criticarle quando ritieni che sia opportuno in sostanza discutere del sapere non è un peccato allora siccome ho ritenuto che tu in quel caso discutevi del sapere beh insomma che colpa avevi e a pregiudice mi ha dato ragione però quindi ok fra l'altro fra l'altro tu stai parlando di cultura in questo caso addirittura è la scienza e esatto vorrei ricordare perché vorrei ricordare perché l'ha ricordato anche lui che io ho le votazioni che lui ha preso quando si è presentato a un esame ed è stato bocciato non è stato ammesso il signor Burioni e quindi lui che ha bocciato quasi tutti quelli che sono andati da lui e in realtà lui è stato bocciato forse non ha rivalsa comunque rimane il fatto che cioè siamo stati abbiamo abbiamo vinto due cause su due caro Guido Magnesi io spero di vederti solo a cena e di non venire più e di non venire mai più nel tuo ufficio non vegane ma vegetariane al massimo mi raccomando dovete sapere che Red è un vegano puro io sarei un mangiatore accanito però quando è vegetariano mi piace molto quando è vegano eh cosa devo fare digli di no se sono soldi sorrido però è un problema è un problema va bene io spero io come credo anche Vasco di vederti solo a cena e non più d'accordo infatti tra qualche giorno vado a Bibione al numero zero ma comunque ripeto la cosa curiosa perché adesso tu hai legato due persone tu a Vasco guardate che il cliente è simpatico e anche il cliente intellettualmente aperto di cui io non sono d'accordo su tutto quando per esempio insomma Red ogni tanto parla con un mondo sovranaturale io io rido e adesso non si deve offendere lui rido ma mi fa anche piacere che lui abbia questi contatti prestigiosi in ogni caso sappiate che il cliente stimolante è proprio quello sono noti a me poi mi interessa molto sono stimolanti va bene questo complimento allora spero spero di non essere più stimolante per te va bene ciao Guido ciao Guido grazie ciao 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 allora Guido Magnisi ragazzi il mio avvocato è anche quello di Vasco e devo dire che c'è soddisfazione quando vieni assolto sì però ti è costato anche denaro e ci sono persone che hanno tanto denaro possono permettersi di fare causa non è il caso di De Loco e quindi in generale intendo non intendo solo nei miei confronti ho discusso con una persona che diceva in un paese democratico io gli faccio causa e io gli ho detto non sei democratico se gli fai causa perché perché tu hai tanti soldi la persona a cui tu fai causa non ha soldi quindi se vuoi essere democratico tu gli paghi un buon avvocato poi gli fai causa comunque siamo stati assolti io Andrea e Giacomo Muccioli per una roba che non abbiamo mai commesso accusati da una persona che invece è stata condannata ha patteggiato una condanna perché ha ricattato Vincenzo Muccioli di cui lui era autista that's all folks è stato un po' Grazie.